Nella mia città Cagliari si pratica la raccolta differenziata dei rifiuti e da quando è iniziata la raccolta differenziata dei rifiuti sono obbligata ad acquistare buste di plastica, buste molto grandi che vengono utilizzate nel bidone della plastica, quindi io acquisto buste di plastica, ci metto dentro la plastica, poi faccio un nodo e una volta alla settimana vengono a ritirarlo. Io prima non acquistavo, non ho mai acquistato buste di plastica, mi sono limitata a utilizzare quelle che venivano date nel negozio oppure cercavo di non utilizzare buste di plastica andando a fare la spesa con borse multiuso, cioè che potevo usare diverse volte, borse di stoffa oppure di plastica resistente. Perché vi sto parlando della plastica? Perché ogni volta che srotolo il rotolo di plastica per prendere una bustona da mettere dentro il bidone della plastica e ogni volta che estraggo la busta di plastica dal bidone devo confrontare con un enigma che ancora non sono riuscita a risolvere. Non so se avete presente le buste di plastica, soprattutto quelle grandi, molto spesso hanno nella parte inferiore, nella parte di giù, un lunghissimo filamento di plastica, ma proprio lungo, sarà lungo, non lo so, Quello delle buste grandi per la plastica del bidone grande sarà lungo almeno un metro e io ogni volta mi chiedo ma a che cavolo serve questo filo di plastica appiccicato sotto le buste di plastica? Non serve a legarlo perché è appiccicato sul fondo e ovviamente la busta si chiude dalla parte superiore, non dalla parte inferiore. Non sono riuscita a spiegarmelo e ancora ci provo. Ho provato stamattina a fare una ricerca su internet. Ecco voi provate a cercare questa cosa qua, anzitutto come definire la domanda. Ho provato sia in italiano che in inglese. Ho provato a cosa serve il lungo filamento di plastica, apriti cielo e spalanca di terra perché tutti i risultati prendono in considerazione la parola filamento, plastica e mi raccontano come si fa la plastica e vari filamenti eccetera eccetera. Ho provato anche in inglese però non sono riuscita nemmeno ad avvicinarmi lontanamente a trovare una definizione per poter porre la domanda, non dico per trovare la soluzione ma per porre la domanda. A che cavolo serve quella cosa lunga lunga di plastica che penso là fuori dai sacchetti? Ecco se qualcuno, qualcuna in ascolto avesse la risposta o avesse dei suggerimenti su come porre la domanda io sono qua e aspetto.